L'amministrazione comunale di Castellabate per dare un impulso al turismo nella stagione invernale, particolarmente nel periodo natalizio, intende riproporre l'allestimento delle luminarie lungo le vie e le piazze del centro storico e delle frazioni tramite installazioni artistiche al fine di rendere più accogliente e calorosa la visita del comune. Le iniziative per il Natale avranno inizio nel mese di novembre e si protrarranno fino al mese di gennaio, quindi per l'amministrazione è necessario provvedere all'illuminazione delle piazze e strade principali al fine di ricreare anche visivamente l'atmosfera natalizia. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Costabile Spinelli, in seguito a questa proposta dell'assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri, ha dato il via libera all'installazione delle luminarie, il quale costo sarà di 32 mila euro circa.